Toscano, il gruppo che fa muovere gli immobili in Italia. L'energia non è una formula, eh no, non si accende, non si spegne e non si ferma, mai. L'energia crea, migliora, iniscia, si trasforma. Ogni volta che ce ne prendiamo cura, diventa un'idea per generare nuova energia. La partnership tra Eni e il Massachusetts Institute of Technology è una di queste idee. Il risultato sono progetti innovativi in campo energetico e ambientale e tantissime richieste di brevetto che nel prossimo futuro potranno rivoluzionare il modo in cui concepiamo e utilizziamo l'energia solare. Diamo all'energia un'energia nuova. Amore. Che c'è? Devo controllare la freschezza. A quest'ora? Eh sì. Oh, non dirmi che a quest'ora stai andando in negozio. Eh sì? Ma chi te lo fa fare? I miei clienti, caro. Francesco! Vado di fretta. E dai, ci metto un attimo, eh? Ecco qui. Com'è? Buono, eh? Ah, quasi come quello di Conat. Sei proprio di parte. Eh, beh, il supermercato è mio. Ma sono fresche queste notizie? Certo che sei proprio fissato con la freschezza tua, eh? Dovunque c'è un Conat, c'è gente così, attenta alla qualità che parla attraverso tutti i colori e i profumi della freschezza. Perché in Conat, sulla qualità, nessuno chiude mai un occhio. Conat. Persone oltre le cose. Ricordate? Era l'anno della sfida. Svizzero? No. Vuoi? Mmm, questo è svizzero. No, novi. Chi ha detto che il buon cioccolato è solo svizzero? E oggi, la sfida continua. Ma, ehi! Svizzero? No, novi. Nocciolati novi, con le superbe nocciole intere delle nostre colline. Novi, il grande cioccolato italiano. Novi. L'audio descrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti, su Radio 1 in onde medie, sul secondo canale audio del Digitale Terrestre, sulla rete satellitare. Amo il mio lavoro, perché mi permette di circondarmi di bellezza e di bontà, di esaltare sapori, gusto. E alla fine di una giornata, mi piace ritrovare tutta la bellezza e la bontà. racchiose qui dentro. Il cuore profumato di una nocciola intera, il cioccolato più cremoso e la croccantezza del wafer. Ferrero Rocher assapora la bellezza. Gemelli! Urano e Saturno in trigono vi rendono bravissimi, soprattutto generosi. Sabrina, io le stelle, non ci credo. L'influsso di Plutone rende i vostri divani bellissimi e alla portata di tutti. C'è una nuova promozione. Marco! La collezione Supreme a metà prezzo, oggi con un 25% di sconto in più, come divano in liso a 199 euro e l'Ivea con letto a 499 euro. Affrettati! Fino a domenica la consegna è garantita entro Natale. Fultrone soffà, gli artigiani della qualità. Prima, quando mio marito e i miei figli facevano una pausa, prendevano quello che capitava. E poi un giorno ho avuto un'idea fresca. Kinder Pinguin. Tutto il gusto del latte fresco e del cioccolato croccante. A loro piace, io sono tranquilla. Kinder Pinguin. La pausa che rinfresca. Scarta il tuo Kinder Pinguin. Cerca il Pinguin bianco e vinci la Patagonia. Scopri come su Kinder.it. Che giornata. Finito tardi? Eh sì, non me lo dire. Ma adesso torni a casa, ti metti comoda e mi guardi in tv. Ma non sei in tv stasera? Certo che ci sono. Con il nuovo Sky On Demand puoi vedere le tue serie preferite quando vuoi a qualsiasi ora. Poi, se trovi di meglio da fare stasera, me la guardo domani, eh? Italian Man. Solo con Sky hai le migliori serie tv e con Sky On Demand hai tutte le serie complete e migliaia di film da vedere quando vuoi gratis. Come dovrebbe essere. Nocciolati Novi con le superbe nocciole intere delle nostre colline. Novi, il grande cioccolato italiano. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni. Ridefinire il nostro concetto di design. Superare i nostri standard di sicurezza. E battere i nostri record di aerodinamica. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. Nocciolati Novi Svizzero? No, Novi. Novi, il grande cioccolato italiano. Finalmente una casa tutta Scavolini. Il posto più bello per stare insieme. André Moris, il cashmere. A Casale Monferrato, la fabbrica del cashmere. Ascoltate, un liveto solo per il mese della digestione ad un prezzo speciale 39 centesimi con un liveto risparmi e guadagni in salute. Andrò, uemimi, tiro! È stasera le 10 al pub. Faccio la pub. Si dice pub. È milanese. Sì, sì, la fe. Ma la faccio pure su internet. Da Telecom Italia e hai tutto. A DSL, chiamate illimitate, affissi e cellulari a 29 euro al mese. L'esperienza dell'amore Tra le mie braccia come un volo E' un babà. Deve andare ad X Factor. E perché? A Milano si trova così bene. Ma, ehi! Svizzero? No, Novi. Nocciolati Novi Con le superbe nocciole intere Delle nostre colline Novi Il grande cioccolato italiano Nuova Citroën Gran C4 Picasso Sette posti Il Tecno Space Nuova gamma Citroën C4 Picasso Da 19.900 euro Da 199 euro al mese Con manutenzione programmata inclusa Ogni giorno c'è un viaggio che comincia E in ogni viaggio c'è un momento in cui abbiamo bisogno di ripartire Pocket Coffee La carica del vero caffè e il piacere del cioccolato Pocket Coffee Il tuo compagno di viaggio L'energia non arriva Si genera Come il rispetto L'impegno E il benessere L'energia è un gesto semplice Ma la trasforma in idee Per crearne di nuova L'energia è ciò che diventa Diamo all'energia Un'energia nuova Troppo complicato? Almeno per la pausa Scegli qualcosa di semplice Kinder Maxi Tutta la semplicità del cioccolato Kinder E del suo ripieno al latte Kinder Maxi Il Maxi della semplicità Cari immobiliare.it Vorrei una camera tutta per me Vicino a Leo Il mio amico Caro Luigi Tu fai la ricerca Io trovo l'immobile che fa per te Immobiliare.it Il numero uno Per vendere e comprare Con chi ti stai messaggiando? Oddio Oddio Cazzo Cazzo Un intreccio di storie esilaranti Dal sapore tutto italiano Che piace Sei singolo? Sì sì Singolo Singolissimo Da farmacista A euro Deputato Sono andata a letto Come una premier Però tutti carini Per beccarti E poi Quasi Ancora lei Io vorrei fare del sesso selvaggio con lei In prima visione su Rauno Ex amici come prima Mercoledì alle 21 e 10 Italy in a day Carica il tuo video su Italy in a day Punto rai punto it Nero Giardini Calzature e abbigliamento Nero Giardini Per chi ama lo stile italiano Azione Dai che sono legata come un cotettino Non esisti Sei utile come il sale nel budino Ci sono, ci sono No, i minuti sono finiti Ma cosa fai? Non vedi che avevo aggiunto altri 500 minuti? Nasce Vodafone, scegli tu Scegli 500 minuti e hai 500 minuti in più verso tutti A 5 euro al mese Poter scegliere conviene Ti chiamo un taxi o te ne vai a nuoto Scegli tu Abbiamo un problema con sua figlia Ti rimangono 5 minuti Per quell'ora sarò già a cena Se stai guardando questo trailer non stai guidando Però stai continuando a pagare l'assicurazione della tua auto È tempo di usare la testa Passa a Sara Free e paghi in base ai chilometri che fai Fai una quotazione su Sara.it Bastano targhe e data di nascita Prima della sottoscrizione legge il fascicolo informativo Il croccante del cioccolato fondente Il calore del liquore Il dolce della ciliegia Mosheri, lasciati stupire I 50 anni per me sono una rinascita Cerco lo stesso per la mia pelle Ispirato da 20 anni di ricerca sulle cellule madri della pelle Nuovo Age Perfect Renaissance Cellular Con Natessium Un potente antiossidante per rigenerare intensamente la pelle Ogni giorno 4 milioni di cellule nuove risalgono più velocemente in superficie Rimpolpata, più fresca che mai La mia pelle è splendente Nuovo Age Perfect Renaissance Cellular dell'Oreal Paris Una vera rinascita per la mia pelle Noi valiamo E... Abracadabra Oh, Parmareggio è la mia marca preferita Abracadabra Enzino, la magia più sorprendente la fa Parmareggio Che con il parmigiano reggiano crea le fettine Parmareggio Morbide fettine che danno più gusto ad ogni piatto Forza, facciamole sparire Che lavoro, le fettine Parmareggio Fettine Parmareggio Consigliate da una vera intenditrice Sì? Siamo di Equitalia? No, siamo cattolici qui Arriva al cinema Checco Zalone Filippo, Pino, mi portate un cocktail per cortesia? Tortello di zucca in salsa di pistacchio È cotta, la puoi scolare? Sole a catinelle Figlio mio, non voglio che pensi che questa è la felicità Perché, guarda lì, non lo so Quella è la felicità, papà Sto sta cacca Dal 31 ottobre al cinema Sono proprio caduta dal pelo Chi eri, Luca? Mi ha piantata Più c'è riso, più ti senti leggero La bontà di riso soffiato, cereali e frutta E tanta leggerezza Riso su riso calbusera Io ci riso su Allora, gli ultimi mesi Le separazioni e i divorzi sono in aumento Mentre diminuiscono i matrimoni Ma questo succede perché Sempre più gente si innamora a 50 anni E tutto questo mentre sta uscendo E' appena uscito, anzi, il film su Diana Una vita tra cuore e potere Parliamo stasera con Katrin Spak Quarto matrimonio da poco Con Antonio Caprarica Che racconta tutti i lavori della corte inglese E con Cecilia Capriotti Che ci elencherà il suo decalogo Come sedurre un milionario Porta a porta, più tardi Finalmente una casa tutta Scavolini Il posto più bello per stare insieme Andre Morris, il Kashmir A Casale Monferrato La fabbrica del Kashmir Quest'estate ci ha lasciato Separazioni e i divorzi in aumento E continua la moda L'abitudine di innamorarsi A 50 anni Mentre appena uscito nelle sale Un nuovo film su Lady Diana Una vita tra cuore e potere Perché succede tutto questo Perché la gente si sposa meno Perché ci si separa Si divorzia di più Perché dopo il TG1 Flash Chichi in peri di cereali Energia pura con fibre e minerali Gusto intenso di cioccolato e frutta Biscotti gran cereale Mordi la forza della natura Bentornato fratellone Basta poco per vivere insieme il Natale Sky si fa in quattro per te Con i nuovi MultiPack Da oggi oltre ad una TV migliore Puoi avere MySky SkyGo e Sky On Demand Inclusi nel prezzo Scopri MultiPack Intrattenimento Con le esclusive di Sky1 E canali Fox MultiPack Cinema Con oltre 300 prime visioni O MultiPack Sport Sky si fa in quattro per te Con MultiPack Lo SkyPack che preferisci MySky SkyGo Sky On Demand A partire da 19 euro al mese Chiamaci 020200 La casa Il tuo mondo È dove sei cresciuto Dove sei diventato indipendente È dove hai messo tutto te stesso Per questo se devi fare dei lavori Non rimandare Grazie alle nuove agevolazioni fiscali Hai il 50% di detrazione IRPEF Sia sulle spese di ristrutturazione Che sull'acquisto di mobili Ed elettrodomestici di classe A più Per la casa che stai riqualificando Approfittale Rimetti la casa al centro del tuo mondo Con chi ti stai messa? Oddio Ah Ah Dio che torna l'acchina Un intreccio di storie esilaranti Dal sapore tutto italiano Che casa? Sei singolo? Sì 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 Singolissimo Da farmacista a eurodeputato Sono andata a letto con una previa Però tutti i carini per beccarti e poi Quasi Ancora lei Io vorrei fare del sesso selvaggio con lei In prima visione su Rai 1 Ex amici come prima Mercoledì alle 21.10 Per ridurre l'uso del contante Noi la pensiamo all'opposto Dice Alfano Mentre Epifani afferma Evitiamo un Vietnam Miglioramenti su occupazione E coesione sociale Il processo per il naufragio della Concordia In aula parla la ballerina moldava Dominica Era a bordo della costa E ammette Avevo una relazione con Schettino Calcio Anticipo di campionato Atalanta Inter 1 a 1 E tutto Più tardi il Tg1 della notte La linea a porta a porta Buon proseguimento di serata C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni Ridefinire il nostro concetto di design Superare i nostri standard di sicurezza E battere i nostri record di aerodinamica Quel qualcuno Siamo noi Nuova CLA 200 CDI Da 33.700 euro Vieni a provarla Ci siamo Il mio primo cornetto integrale Con zucchero di canna I nuovi cornetto integrali del mulino bianco Un mondo buono Il mio primo cornetto integrale del mondo Grazie. Federico, l'inventore di sogni. Che vuoi? RaiMovie, racconta Fellini. Giornata Fellini, giovedì su RaiMovie, canale 24. Italy in a day.